Ciao, sono Gianni Mariani. Vi faccio questa domanda. La fisarmonica è uno strumento folcloristico oppure uno strumento da concerto? Forse potrebbe essere l'uno e l'altro. Ma voi cosa conoscete della fisarmonica? Solamente l'aspetto folcloristico? Bene, è ora di scoprire che la fisarmonica è uno strumento da concerto a tutti gli effetti ed è in grado di onorare qualsiasi tipo di palcoscenico di teatro. La gazzaladra, affascinante sinfonia del grande compositore Gioacchino Rossini. Gioacchino Rossini. Gioacchino Rossini. Gioacchino Rossini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.